Io sono Stefano Capezzuto di Oil Project, ho partecipato al tavolo Education e ho presentato il nostro progetto che è oggi la più grande scuola virtuale in Italia, sono 250.000 gli italiani che nell'ultimo anno hanno seguito le nostre video lezioni e la piattaforma si presenta come una sorta di YouTube della formazione per cui chiunque può partecipare inviando i propri contenuti formativi, può inoltre interagire con la community partecipando con le domande ai docenti. La nozione di docente e utente non c'è una netta divisione per cui chiunque può essere l'uno e l'altro contemporaneamente, facciamo anche delle video chat in diretta su temi di attualità con scienziati, politici ed esperti di vari settori. Veniteci a trovare su www.ilproject.org